ciao a tutti dal trial team post rock racing di genova oggi proviamo per voi la nuova cerco 2022 factory nel precedente video abbiamo visto le novità di quest'anno ringraziamo l'importatore per averci fornito la moto e vediamo come se la cava a 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 come avete visto abbiamo tracciato delle zone con terreno misto, rocce, rampe, uri, uri. per testare bene il modello 2022 di cerco. Quello che ci ha sorpreso di più è stata la leggerezza e la maneggevolezza della moto, ma soprattutto la potenza del motore. Per chi non avesse particolari esigenze di potenza, consigliamo il modello 250 che è un po' più docile e un po' più gestibile. Speriamo che vi sia piaciuta la prova, dal team for truck racing è tutto, arrivederci al prossimo test.